Perfetto, oh yes, vediamo se è un po' con livello 29, non mi interessa Ok Vediamo che Pokémon trovo Vabbè dai, volendo Vabbè no, trovo soltanto questi, trovo, sì, 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 sì Sì, va bene, trovo soltanto Vulpix Oh, muori Perfetto Allora Ascoliamo Perché diventa tutto bianco, scusatemi Hai ottenuto la prozione Max, hai lo zeno pieno Allora Quanti sconti del video? Ti porto il video? No, no, no 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 Ma dai, fanculo, va, la usiamo, va, ma sì, dai, mi sta bene Sì, 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 ho preso questa cosa Poi, dovrei andarmi a sistemare Vediamo che questi Pokémon ci sono qua Magari cambiano, anche se non penso proprio Infatti no, c'è sempre Infatti no, no, no Sempre gli stessi sono Va bene Pepo, trova Etare Max Oh, che culo Perfetto, sono fortissimo Allora Pepo, trova Ultra Ball Questo sì che è utile Io le stetambole guardo Perché non c'era un cazzo, la fanculo Dove cazzo sono? Montepira Ah ah, peggio per te Ah 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 Io sono uno sfigato che fa finta di sentirsi fico Non è fette Questa qui non me l'aspettavo Io quasi quasi mi sono più per levarmi Aaron E mettermi, come cazzo si chiama Beh, per il momento usiamo Altaria Furia Dai, tre colpi, dai Ah, è morto Si è ammazzato da solo Allora No, vabbè, vediamo se Fanno tutti lo stesso Pokémon No, no, Zubat è psichico Oh, yes Si, stai zitto Vediamo se qua ci sono cose No No Ok, vabbè Facciamo così Non c'è nulla Non c'è nulla 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 Vediamo se ci sono Pokémon Qua Vediamo se ci sono Ho trovato il Pokémon Banana Azzurra Mannaggia, brutto colpo No, dai Ora non lo trovo più, tipo Dai, voglio il Pokémon Banana Azzurra Dai, voglio il Pokémon Banana Azzurra Dai, non lo trovo più Vabbè, ho capito Zaino Che se lo attacco qua lo shot Dai, non ti liberare Dai, uso Questi cazzi Oh, catturato Non ci speravo neanche più di tanto Oh, ciao Pokémon Teschio No, io voglio il Pokémon Che mi sa che mi ha ucciso Raga, mi ha tipo maledetto Per tutto il resto della mia vita Voglio il Pokémon Banana Voglio il Pokémon Banana Voi, è il Pokémon Banana Cosa? È rarissimo È molto raro Com'è molto raro? Hai una percentuale del 2% E voi me lo dite così? Dai, l'avevo trovato Fastidio 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 Cioè, mi stai dicendo Che io Ho trovato un Pokémon Con un solo 2% Di possibilità Di trovarlo E non l'ho catturato Dai, voglio il Pokémon Banana Com'è rarissimo Dai Che tristezza Dai, no, 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 no Io non me ne vado fino a quando non lo ritrovo A costo che mi viene un live Lungo 16 giorni A costo che io qua Ci lo Che giuro Pokémon Sì Pokémon Banana Ciao 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 Ohi, ciao Pokémon Banana Visto che sei così raro Casomai fare parte della mia squadra Non lo so Allora Per te addirittura Uso Non la Poké Ball Ma la Poké Ball Tu devi morire No, 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 no Ti devo catturare con la Poké Ball Non mi interessa Ti devo catturare con la Poké Ball Tu forse non l'hai capito Ma porca Ti devo catturare con la Poké Ball Fatti catturare Pokémon di merda Ma non Mi stai sfidando Te le uso tutte 70 Te le uso Pokémon di merda Ah Ah sì Ah sì Ah sì Ah sì Beccata Ora ti faccio vedere Se non ti fai catturare Fatti catturare Now subito Ora Veloce Fatti catturare Non mi fai incazzare E uno E due E tre Pokémon di merda Sei il Pokémon Banana Del cazzo Tu pesi un chilo Che cazzi Ti chiamo Cha 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 Grazie a tutti! Con uno di merda! Oh yes! Ah sì! Mi sento fighissimo! Ok ne approfitto pure per expare Facciamo salire al 40 sto dragospira Che siamo qua Magari trovo un'altra banana qua Ma che prendono un botto di esperienza Ne approfitto un po' Vai dai dai Gli ultimi 4-5 pokemon Furiano un effetto Oddio mi tipo la muro Tra un po' mi muore Livello 40 Imparami mosse Drago danza! No drago danza mi pare Che aumenta attacco Sì attacco a velocità Non mi interessa Però aspetta fammi vedere Vediamo magari c'ho A sto punto io mi levo il riduttore Tanto mi fa danno Dai sì mi levo il riduttore Parappa papappa Forse avevo fatto una minchiata Ma vabbè Magari aumentare l'attacco Mi può tornare utile Allora comunque Salviamo Yes Facciamo file Facciamo save game Il primo Facciamo file Save game Il secondo Leviamo il cursore E torniamo a giocare Allora Perfetto Vediamo di qua cosa c'è Beppo trova zinco Yes Beppo trova nelle tombe di tutto Qua non c'è niente Qua non c'è niente Sì, 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 viaro entrambi, viaro, vai Ma a questo punto stavo pensando Cioè, beh no, a questo punto va a fa' niente Se mi muore, pazienza Allora, siamo dovuti Far a tiro Yes Mamma mia, sono furtissimo Sì, però è fastidioso È fastidioso, mamma mia Vabbè, ok, basta, 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 basta No, 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 sì Ma che io devo stare con questo Per tutto il resto della vita In The Best in the World No, 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 no Cioè, no, no, no Non mi rompi il calcio, per favore Ma, ma no, eh Allora, una squadra aumenta No, no, no Ok, restituisce 50 PS E diamo Perfetto Perfetto Ma a questo punto utilizzo Io revitalizzo Max E io lo do Sì, a lui A Gargarozzo Sì, 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 sì Che Gargarozzo mi sta Mi sta Gargarozzo No, no, no Gargarozzo mi sta simpatico Chi, che è? Ivan Maxi del team Ci apre Ma anche noi abbiamo tutto La rossa costruita Oh no Non può essere vero Non hanno rubato Solo la sfera blu Ma anche la sfera rossa Per nessun motivo La sfera blu E la sfera rossa Si devono separare Che vorranno faro Con le due sfere Ah sì È stata il team Stemma magma Questa cazzo ci faccio Con lo stemma magma Scusate Cazzo ci faccio qua Hanno preso delle palle Il monte Vai sentiamo Perfetto Ok Mamma mia Che storia agghiacciante Vedete Abbiamo malelezza Più o meno Allora Dobbiamo tornare giù Vi ricordo Che abbiamo catturato Un Vulpix Che io sinceramente Ho resuscitato Un Pokémon Che non ha BP Lanciafiamme Certo però Se mi muore così È uno spreco Perché ho usato Un coso Ah Mannaggia Mannaggia Cazzarola Però un altro Pokémon d'erba Però Eh dai Ok Lo dovrei poter Catturare Sì Suka Grandissimo Frey 5T Che capisce Però Hai un nick Pessimo C'è Fr 3 1 5T Allora Vuoi dare No 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 Vulpix Mi piace Allora Io direi Di andare Subito Tornare Allora Intanto Torniamo Torniamo E vediamo Cosa c'è Qui sopra A sto punto C'è una volta Di qua Non ci siamo Andati Oddio Non mi direi Che tutti questi Sono allenatori Perché se li devo Arare Non c'ho Proprio voglia Sì Sono allenatori